Domani ci sarà la prima votazione per la scelta del nuovo rettore dell'Università dell'Aquila, una scelta che dovrà cadere tra i due candidati, i professori Edoardo Alessi e Carlo Masciocchi. Finisce dunque dopo sei anni l'era in Verardi, la rettrice e ricercatrice conosciuta a livello internazionale che forse passerà nella storia dell'Ateneo Aquilano come colei che, con duro pugno e pungolo, ha traghettato l'Università da un regime di emergenza per il superamento della crisi post-sisma, dunque artificiale, gonfiato, falsato da sei anni di sospensione delle tasse universitarie alla normalità, incassando anche tante critiche, ostacoli, polemiche. Ma oggi la rettrice può dire di aver avuto ragione. L'Università dell'Aquila si staglia finalmente nel panorama abruzzese e soprattutto nazionale con orgoglio tra le più accreditate università, anche dal malauria. La ricerca cresce, i rapporti internazionali anche, nuovi corsi unici in Italia sono stati avviati o stanno per partire, nuovi laboratori di ricerca, internazionalizzazione, rapporti con scienziati e multinazionali di tutto il mondo. Una sfida che l'Ateneo, questo è il messaggio al successore, deve mantenere anche nel futuro. Oltre il 40% viene da fuori regione e questo credo che sia un elemento di pregio perché abbiamo sempre avuto un'attrazione su un territorio esteso dell'area interna. Abbiamo dei corsi di laurea, i nostri corsi di laurea tradizionali che hanno continuato ad attrarre studenti, ma anche in questi anni abbiamo introdotto nuovi corsi di laurea che sono molto richiesti dal mercato del lavoro. In questi anni una delle chiavi di sviluppo della nostra Ateneo è stato quello di pensare che la ricostruzione dovesse essere un'opportunità per l'università e per i suoi studenti di lavorare e introdurre elementi di innovazione e di conoscenza sul territorio coniugandola con la ricerca di punta. Questo è avvenuto, è avvenuto in molti settori. Naturalmente quello che lei menzionava è un settore particolare, il settore dell'Information and Communication Technology. Che cosa farà invece Paola Inverardi da settembre? Paola Inverardi da settembre tornerà a fare la ricercatrice, la professoressa, con molta soddisfazione, ho tante cose da fare.